E' iniziata ieri la tre giorni dei 1310 candidati iscritti al test di ammissione a medicina e odontoiatria all'Università d'Annunzio. Gli aspiranti ieri sono stati 266 divisi in due sessioni durante la mattinata. All'esame di oggi, iniziato poco dopo le 11, hanno partecipato 330 persone. Domani appuntamento per 695 aspiranti matricole dell'Ateneo Teatino. Tante le novità a partire dal test d'ingresso anticipato al mese di aprile, di solito si fanno a settembre, come conferma il professor Liborio Stupia, presidente della Scuola di Medicina. E' una scelta che segue gli indirizzi a livello europeo, cioè di andare a pescare gli studenti migliori quando ancora stanno studiando e dare a loro la possibilità soprattutto di cimentarsi non con un solo concorsone in un solo giorno, ma poter fare fino a quattro prove e poi produrre come voto utile per agrodatori il loro risultato migliore. E' un enorme passo avanti rispetto al passato. Altra novità importante è la nuova organizzazione del test, che dovrebbe garantire anche la drastica riduzione di possibili ricorsi. Un esame fatto al computer, quindi non devono più riempire con le crocette dei fogli, che è un sistema anacronistico. Anacronistico. Secondo, il tipo di domanda è cambiato, c'è più peso sulle domande di biologia e di chimica, non c'è più come definizione la cultura generale che è stata sostituita da interpretazione del testo, c'è la logica, ma soprattutto il sistema pesa in maniera diversa le domande. Cioè sono domande più difficili e meno difficili, quindi non tutte hanno lo stesso peso, cioè indovinare una domanda difficile varrà di più che indovinare una domanda facile. Come dire, il sistema normalizzerà il voto finale tenendo presente una cosa importante. Quel voto da solo non dice nulla perché lui dovrà fare un tot di prove e quando sarà aperta il bando per comunicare il proprio punteggio, presenterà il suo punteggio migliore e là si vedrà nella graduatoria nazionale dove è collocato. 1.310 domande sono arrivate, spalmate in questi tre giorni, ve ne aspettavate di più oppure nella media? No, è quello che ci aspettavamo perché il Ministero aveva simulato un numero massimo di 1.700, cioè aveva detto che noi dovevamo essere pronti al massimo ad averne 1.700. Se quella era la quota massima 1.300 va bene, vuol dire che comunque non siamo al massimo possibile, ma erano proprio numeri generati per eccesso, per dire tenetevi pronti a 1.700 ma saranno sicuramente di meno. 1.310 va benissimo. Chiusura con qualche ragazzo che in un'ora e mezza deve rispondere a 50 domande a scelta multipla. Sono molto agitata, però bisogna mantenere la calma perché solo così si può fare di meglio. Da 1 a 10, pronta? 5. Vabbè, si spera, ci proviamo, poi ci sarà il secondo tentativo, una prova oggi. La mia opzione è stata medicina per poi diventare dietologo. Insomma, hai già le idee chiare? Sì, posso dire di sì. E poi dopo, se non va bene, ci stanno sempre i piani B.